Il Presidente della Camera Commercio e Industria Timor-Leste, Il Presidente della Camera Commercio e Industria Il Presidente della Camera Commercio e Industria l'agricoltura 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 e toto, tu tem servizio a modulo. Mi vorrei ringrazio a Viven, Presidente, Ministero da Presidità della Presidità di Presidità, fu al porto movimento Uosto, Presidente da Unita Municipi, ma lo veterano, sono tutte. Sperre che abbiamo, non so le loro i ricchi, non so le loro. Mi vorrei, sperre per avertenuto l'elemento, e ci sia magari più in vola, in modo che abbiamo avuto. Abbiamo investimento, in modo, di tutto, ma l'inizio, ma la loro, ha la loro investimento, questa è una legge, sono tutte le loro, ma la loro considerano, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.